musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono Giosus oggi riprendiamo con Axelwar vs. WarDart Online nello scorso episodio abbiamo dopo aver recuperato la Trinità che sono tre anelli che equipaggiati possono permetterci di infliggere danno ai tre esseri leggendari ci avviciniamo per sconfiggere il secondo dei tre esseri leggendari che è questa specie di falco che si effettivamente assomigliano un pochino alle divinità egizie ne ho dato anch'io i colori sono quelli più o meno di uno slifer drago del cielo che abbiamo fatto fuori l'ultima volta questo è sicuramente drago al lato di là purtroppo ci manca obelisco del tiranno che è un tartarugono della miseria ma va bene cioè in questo caso è un tartarugono in realtà obelisco del tiranno non è un tartarugono ma va bene dettagli a parte come potete vedere per il fatto che vi dicevo che queste creature leggendarie di leggendario non mi sembrano davvero molto cioè con un semplicissimo switch gli abbiamo tolto praticamente una barra e mezzo di vita cosa che secondo me se fossero veramente creature leggendarie non dovrebbero non dovrebbe accadere è vero che non sono a un livello bassissimo però vi faccio veramente 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 troppi danni però vabbè proseguiamo eh tra parentesi sono soggetti ai debuff di kuriyuki per esempio kuriyuki ha la possibilità di paralizzare e come vedete tutti i debuff di questo mondo gli si applicano a questi boss secondo me avrebbero dovuto togliere questa opzione nel senso non è molto è esploso a caso però vabbè secondo me non è molto leale che questo succeda e chià ah 2 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 13 21 13 14 16 18 18 18 18 18 E' vero. E' vero. E' vero. Che cosa si tratta di un'altra parte? Ok. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. DECELERAZIONE RECELERAZIONE Non so neanche io come l'abbiamo chiamato. Il fatto è che comunque è una meccanica molto più interessante. E sa Teth che è l'ultimo degli esseri leggendari fa molta più resistenza degli altri due suoi amici. Fin da subito. E' come vedete il Switch è quasi sceso al termine. E non gli ho fatto praticamente niente a questo simpaticone qua. Secondo me è quello dei tre esseri leggendari che mi ha fatto gannare di più rispetto a tutti gli altri. Comunque sto dicendo, meccanica davvero davvero molto interessante. E' il fatto che ci abbiano per l'appunto introdotto quest'altra funzione qua. Un po' l'opposto di Axel Warden. Cioè, per tornare indietro abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia re-celerare. Re-ce-le-ra... Lo ha? Oddio l'insiccata. Re-celerazione insomma. Se così vogliamo dire. Qualcosa che ci permette di tornare indietro nel tempo. Non è così scontato neanche adesso come faremo a farlo. Senza cadere il fatto che gli effetti di quei cristalli sono troppo deboli per adesso. abbiamo bisogno di qualcos'altro che molto probabilmente ci darà per l'appunto questo boss. Cioè... 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 E' solo un po' di chiudere, ma non si può fare un po' di chiudere, quindi non si può fare un po' di chiudere. E' quello che si diceva. E' quello che vuol dire, è solo un po' di chiudere. Beh, non è un po' di chiudere un po' di chiudere, ma... Qu'è questo tipo di paradox? C'è una storia o una storia o una storia. C'è una storia di tempo che ha cambiato la storia? C'è una storia diversa. La storia di tempo e la storia di tempo. 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 Qu'è la storia di tempo per una tempo. C'è una storia di tempo. La storia di tempo ne è stata demora. La storia di tempo. La storia di tempo. La storia di tempo e risonatrice è importante. La storia di tempo non si può confondere il fatto. E anche se si fosse... E? Qu'è la storia di noi? Ok quindi dobbiamo affrontare anche paradossi temporali e il fatto che una persona non potrebbe probabilmente sopportare un'accelerazione così alta di mille anni. E' un'altra cosa che non potrebbe essere un'accelerazione, ma non potrebbe essere un'accelerazione, ma non potrebbe essere un'accelerazione. Ma non potrebbe essere un'accelerazione, ma non potrebbe essere un'accelerazione. Ma non potrebbe essere un'accelerazione, ma non potrebbe essere un'accelerazione. ma solo per quanto riguarda i nostri spettatori, i nostri spettatori non funzionerai ma non si può riuscire l'ALO a tutti i nostri spettatori sì, per cui si tratta di unire l'ALO a tutti i nostri spettatori è quello che si tratta di un obiettino 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 ma oppure il suo motore, pero come veloce, il sognie funziona? quindi insomma, avaruki li c'i ridacchi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti